mese nuovo nuovo video di consigli per quanto riguarda le uscite sulla piattaforma streaming netflix però prima di iniziare come sempre io vi ricordo innanzitutto di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per aiutarmi a far crescere ancora di più il canale ed inoltre se mi volete ulteriormente supportare con i vostri acquisti su amazon io vi invito a farli utilizzando il link che trovate in descrizione perché voi non spenderete un centesimo in più ma una piccola parte della vostra spesa sarà girata automaticamente da amazon al sottoscritto quindi questi sono i modi che avete per potermi supportare ed io vi ringrazio davvero se lo farete ma mettiamo bando le ciance e passiamo a quello che è il succo del video di oggi chi mi segue da un po di tempo lo sa io ogni mese realizzo dei video di consigli ben precisi ben specifici riguardanti quelle che sono le nuove uscite nelle varie piattaforme di streaming soprattutto netflix e prime video tanto che infatti arriverà anche spero appunto il video di consigli per quanto riguarda le uscite di dicembre su prime video ma oggi ci concentreremo invece su netflix quello che farò oggi come del resto faccio ogni mese vi andrò ad elencare 10 nuove pellicole che arriveranno su netflix durante il mese di dicembre non necessariamente dei film inediti anche se in realtà ce ne saranno alcuni da tenere sott'occhio alcuni non saranno dei film inediti alcuni sono dei film che già sono arrivati anche in sala in video alcuni li ho visti quindi non tutti saranno dei film inediti chiaramente sono dei consigli chiaramente su delle nuove uscite ma chiaramente anche diciamo bisogna pur dire che dei film inediti ovviamente non possiamo ancora parlarne nel dettaglio perché perché chiaramente non sono ancora usciti sono dei film da dover puntare secondo me perché secondo potrebbero secondo me rivelare qualcosa di interessante io direi di mettere bando alle ciance davvero io qui sotto chiaramente la mia lista perché altrimenti li dimenticherei immediatamente ed inizierei maniera abbastanza soft perché perché a partire dal 15 di dicembre arriverà su netflix il terzo capitolo di quella che è la saga di john wick quindi john wick 3 un capitolo che io ho trovato abbastanza come dire transitorio nel senso che è un film che reputo migliore rispetto al secondo capitolo che invece non ho apprezzato per nulla però è inferiore rispetto al primo è pur vero che john wick 3 appunto si configura secondo me davvero come un capitolo di transizione verso quello che poi sarà il quarto capitolo che probabilmente verrà realizzato nel corso dei prossimi mesi si spera il prima possibile credo che le riprese siano già state completate con grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti chissà quale storia originale chiaramente stiamo parlando del canto di natale io personalmente sono da sempre legato enormemente a quello che il canto di natale di topolino probabilmente molti di voi l'avranno già visto tante tante volte per me il canto di natale è quello poi è chiaro esistono tante esistono tante trasposizioni però ecco quella è la trasposizione disney chiaramente che io mi porto dietro fin dall'infanzia e quindi il mio cuore batte per lei però ci sono diversi film sulla storia del canto di natale basti pensare christmas carol con jim carrey e appunto a partire dal 2 di dicembre arriverà scrooge canto di natale su netflix proseguiamo con quelli che sono i consigli voglio prendere in considerazione il primo film inedito di questa lista anche se in realtà è inedito fino a un certo punto perché perché per qualche giorno questo film è stato comunque portato in sala io purtroppo non ho avuto la possibilità di andarlo a vedere anche perché nelle mie zone credo non sia stato distribuito perlomeno non in maniera decente ed è knives out 2 quindi il secondo film di quella che si sta di quello che si sta configurando come una sorta di franchise con la presenza di daniel craig chiaramente protagonista principale nel ruolo dell'investigatore di cui in questo momento mi sfugge il nome ma è un franchise che mi aveva conquistato con il primo capitolo ormai di qualche anno fa quindi sono curioso di capire che cosa saranno stati in grado di fare con questo secondo film io non impazzisco di solito per i film investigativi per i film alla sherlock holmes non mi fanno davvero entusiasmare però è anche vero che quando vengono realizzati in maniera decente nel momento in cui si realizza un film con tutti i crismi ecco vuol dire che quello sarà un film in grado comunque di interessarmi e se interessa me potrebbe interessare soprattutto anche gli appassionati del genere quindi a partire dal 23 di dicembre arriverà su netflix su netflix nice out 2 chiaramente se doveste già averlo visto al cinema fatemi sapere la vostra opinione qui sotto tra i commenti inutile dire senza fare spoiler quindi fatemi sapere che cosa ne pensate proseguiamo con un altro film non inedito a partire dall'uno di al primo di dicembre quindi primo giorno di dicembre arriva su netflix starsky e dutch un film di ormai una quindicina di anni fa più o meno chiaramente è la trasposizione cinematografica di una delle più importanti serie tv che abbiano popolato il palinsesto televisivo americano e non soltanto film questo con una coppia comica secondo me in piena forma soprattutto in quel periodo e cioè ben stiller ed owen wilson un film non eccezionale non stiamo parlando sicuramente di un film indimenticabile non una commedia tra le migliori di sempre però è un film in grado di intrattenere e che soprattutto si avvale proprio di quella che è la straordinaria chimica di quella che è la straordinaria intesa tra i due protagonisti tra owen wilson appunto è appunto ben stiller e quindi un film gradevole di ormai una quindicina di anni fa però si lascia guardare sempre piacevolmente quindi a partire dal primo di dicembre passiamo ad un altro film inedito un film che attendo con una certa curiosità ed è il film bardo a partire dal 16 di dicembre nuovo film di ignarritu che quindi ritorna purtroppo mi verrebbe quasi da dire attraverso le piattaforme di streaming non so se in realtà questo film vedrà la sala probabilmente qui da noi no probabilmente la vedrà sicuramente a livello internazionale a livello di quella che la distribuzione americana fosse anche solo per la possibilità di partecipare agli oscar è un film che racconta la storia di un giornalista messicano che ritorna in terra natia ed è chiamato a confrontarsi con tutti quelli che sono i ricordi legati alla sua infanzia la sua adolescenza da quello che ho letto dalla trama chiaramente presente sul web non ho voluto approfondire più di tanto per non rischiare pericolosi spoiler però è chiaro stiamo parlando del nuovo film di ignarritu quindi a prescindere da tutto è un film da tenere sott'occhio è un film da vedere ed io attendo davvero il 16 di dicembre per poterlo guardare per poterlo ammirare il prima possibile staremo a vedere che cosa sarà stato in grado di fare ignarritu già a diversi anni di distanza dall'ultimo film da lui realizzato tra l'altro un film che permise anche allo stesso di caprio di vincere l'oscar chiaramente stiamo parlando di revenant staremo a vedere appunto a partire a partire dal 16 di dicembre bardo nuovo film di ignarritu proseguiamo con un altro film non inedito un film italiano tra l'altro a partire dal 5 di dicembre arriva su netflix mio fratello rincorre i dinosauri un film che io ho avuto la possibilità di vedere in sala credo un paio d'anni fa più o meno è un film che racconta la storia tra due fratelli diciamo a partire dall'adolescenza fino anche a quella che l'età più adulta due fratelli che si sono caratterizzati dal fatto di essere uno dei due affetto da sindrome di down un rapporto che risulta essere complicato soprattutto durante l'infanzia e l'adolescenza ma che poi nasconderà chiaramente qualcosa di magico mi verrebbe quasi da dire un film tutto sommato come dire commovente emozionante un film che riesce a tenere possiamo definirla una commedia perché fondamentalmente è una commedia un film gradevole di cui ho un piacevole ricordo non un film anche in questo caso come dire eclatante clamoroso però ecco ne ho un buon ricordo per quanto riguarda la visione in sala quindi mi fa piacere che a partire dal 5 di dicembre mio fratello rincorre i dinosauri arriverà anche su netflix e quindi vi consiglio di dare un'occhiata se non doveste avere altre priorità più importanti proseguiamo adesso con un altro film in edito un film che mi ha un pochino fatto come dire saltare sulla sedia perché perché adesso lo capirete a partire dal 7 di dicembre infatti arriva su netflix il film ardente pazienza probabilmente questo titolo non vi dirà nulla ma il film andando a leggere la trama racconta la storia di un postino che incontra in maniera del tutto casuale pablo neruda e sfrutterà tra virgolette la conoscenza di questo grande poeta per poter conquistare la donna amata probabilmente vi sembrerà molto familiare perché perché la stessa trama del post del postino con massimo troisi e philip noire tra gli altri maria casse cucinotta quindi è un'altra trasposizione chiaramente di questa storia staremo a vedere mi incuriosisce è un film credo argentino se non ricordo male comunque un film del quale non è che abbia visto chissà quali grandi pubblicità non è stato pubblicizzato a dovere però nel momento in cui ho letto la trama sono rimasto un pochino perplesso perché è uguale identica alla trama del del film il postino di ormai una trentina d'anni fa quindi staremo a vedere lo guarderò semplicemente per curiosità anche se lo devo dire parte già con un minimo di handicap perché perché il postino con massimo troisi è un film davvero meraviglioso che ha fatto la storia quindi non credo che il paragone sia possibile reggerlo da parte di questo film ardente pazienza però ve lo volevo segnalare a partire dal 7 di dicembre lo troverete su netflix proseguiamo adesso con un altro film non inedito un film che è arrivato nelle sale credo un anno e mezzo fa più o meno ed è quiet place 2 a partire dal 23 di dicembre sbarcherà anche su netflix io tra l'altro l'ho anche recensito diverso tempo fa quindi trovate la mia recensione qui qui nel canale credo di aver recensito anche il primo capitolo che io continuo a considerare migliore rispetto a questo secondo il primo mi aveva davvero entusiasmato per tutte quelle che sono le dinamiche del film per il modo in cui è stato concepita la storia stessa il secondo secondo me risulta essere un po più debole tra l'altro anche in questo caso è un film che ci preparerà verosimilmente ad un altro capitolo poi si parla anche di alcuni spin off staremo a vedere però ecco se non doveste averlo ancora visto a partire dal 23 di dicembre troverete è quiet place 2 su netflix inutile dire anche in questo caso un po come abbiamo detto per john wick se non avete visto il primo prima guardate quello e poi guardate il secondo capitolo mi sembra abbastanza banale doverlo anche dire quindi è quiet place 2 a partire dal 23 di dicembre poi vado a dare un'occhiata ai film che mancano i consigli che mancano innanzitutto come penultimo consiglio sì perché siamo arrivati al nono voglio ricordare il nuovo film di noah baumbach e che prevede tra gli altri la presenza di adam driver tra i protagonisti ed è rumore bianco white noise il titolo originale a partire dal 30 di dicembre arriverà su netflix verosimilmente anche in questo caso solo su netflix perlomeno nella nostra diciamo tra di nella nostra nazione qui in italia un po come era successo del resto anche con storia di un matrimonio questo è un film che viene etichettato come una commedia anche se andando a leggere la trama boh di commedia non credo ci sia moltissimo però staremo a vedere perché racconta la storia di una famiglia anche qui costretta a fare i conti con quelli che sono i rapporti interpersonali tra i vari componenti della famiglia stessa con una sorta di sostanza chimica che comincia a spargersi per il cielo della città e questo provocherà tutta una serie di cambiamenti che però anche qui non ho voluto approfondire più di tanto per evitare pericolosi spoiler però anche qui vale un po lo stesso discorso di per quanto riguarda in arrito è chiaro che è il nuovo film di noah baumbach e quindi lo si attende e lo lo staremo a vedere quindi a partire dal 30 di dicembre abbiamo rumore bianco su netflix ed infine chiudiamo con quello che è il nuovo film di ghilermo del toro che arriverà su netflix a partire dal 9 di dicembre ed è pinocchio trasposizione nuova trasposizione chiaramente della favola di collodi in che l'altro con la tecnica della stop motion più o meno quindi sarà un film d'animazione molto particolare mi incuriosisce tantissimo fosse anche solo perché ghilermo del toro probabilmente è uno dei pochissimi che potrebbe cogliere l'aspetto come dire inquietante dark della favola di pinocchio quindi staremo a vedere che cosa sarà stato in grado di fare anche se bisogna dire la favola di pinocchio è stata trasposta ormai talmente tante volte che non si sa che cosa potersi aspettare però staremo a vedere stiamo parlando di ghilermo del toro quindi potrebbe riservarci delle piacevoli sorprese e quindi pinocchio a partire dal 9 di dicembre sbarcherà su netflix abbiamo finito con i consigli stavo leggendo la lista questo era l'ultimo consiglio quindi chiudiamo in bellezza e chiaramente fatemi sapere che cosa ne pensate voi fatemi sapere se questi consigli vi interessano se ne guarderete qualcuno o se ci sono altri film che pensate di voler recuperare su netflix fatemi sapere la vostra opinione qui sotto tra i commenti perché come sempre vi leggerò con molta curiosità io come sempre vi ringrazio per il tempo che decidete ogni volta di regalarmi guardando i miei video vi ricordo di iscrivervi al canale di attivare la campanella per aiutarmi a far crescere il canale qui sotto trovate anche il link amazon per fare i vostri acquisti voi non spenderete un centesimo in più ma una piccola parte della vostra spesa sarà girata da amazon al sottoscritto trovate anche il mio canale telegram eventualmente iscrivetevi anche lì noi ci becchiamo ad un prossimo video ad una prossima video recensione magari ad un prossimo video di consigli spero di poter fare quello a tema prime video quindi vi aggiornerò strada facendo io vi ricordo anche di iscrivervi come sempre anche alla mia pagina facebook ci becchiamo come sempre anche lì e come sempre io vi auguro anche una buona continuazione di giornata e ci vediamo presto ciao a tutti